Il potere giudiziario può eventualmente interpretare le leggi, ma se le leggi sono queste non se le deve inventare. E questa è la critica grossa che stiamo facendo alla magistratura. Tanti magistrati lavorano e lavorano bene, ce ne sono altre tanti che si inventano legislatori nelle loro aule di tribunale. Se c'è una legge la devi far rispettare, anche se quella non ti piace.